Ricostruzione numero 714 della ventesima reazione alla quarantatresima notizia della nona morte di Andy Brodel. Ricostruzione numero 714 della ventesima reazione alla quarantatresima notizia alla prossima. Ricostruzione numero 714 della ventesima reazione alla quarantatresima notizia alla prossima. Ricostruzione numero 714 della ventesima reazione alla quarantatresima notizia alla prossima. Ricostruzione numero 714 della ventesima reazione alla quarantatresima notizia la ventesima reazione alla quarantatresima notizia alla prossima. Ricostruzione numero 814 della ventesima reazione alla quarantatresima della ventesima reazione alla quarantatresima notizia Grazie a tutti.